Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con il terribile incidente in cui Alma Dacò, 33 anni, biologa, fisica e ricercatrice veneziana all'Università di Lausanna, ha perso la vita durante una battuta di pesca subacquea sull'isola di Pantelleria, dove si trovava lunedì pomeriggio. La 33enne, che stava trascorrendo le vacanze nella casa dei genitori nell'isola siciliana, era uscita in barca con un amico, un subesperto, ma dopo l'immersione non è più risalita. L'uomo si è tuffato per prestarle soccorso, ma quando è riuscito a riportarla in superficie, nonostante i disperati tentativi di rianimarla, per Anna era già troppo tardi. La procura di Marsala ha aperto un'inchiesta per la scomparsa della ricercatrice, che aveva studiato a Padova, poi in Svizzera, e ora faceva parte di un team di ricerche dal Colab. I genitori della 33enne, partiti da Pantelleria, erano tornati a Venezia. Alma Dacò era invece rimasta sull'isola, dove ieri aveva organizzato delle immersioni nella zona di Scauri, sul tratto di costa sud occidentale dell'isola, tra Punta Tre Pietre e Cala Nicà. Alma e l'amico si sono immersi in un fondale di circa una decina di metri, allontanandosi l'uno dall'altra, ma una volta riemerso, l'uomo, non vedendola giovane, ha iniziato a cercarla. Sul fondale è riuscito a individuare il corpo della ragazza, ma non l'ha potuta salvare. Sul posto è giunta dopo poco la guardia costiera, per il recupero delle attrezzature e l'avvio delle indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Cambiamo argomento per parlare dell'arresto avvenuto nei giorni scorsi di un giovane veneziano bloccato dai poliziotti del commissariato di Portogruaro a San Michele Tagliamento mentre viaggiava a bordo di un'auto insieme a un amico. Gli agenti avevano fermato l'auto per un semplice controllo, ma avvicinandosi hanno avvertito subito un forte odore di marijuana proveniente dall'interno del veicolo. Hanno dunque deciso di procedere con un controllo più approfondito che ha confermato i loro dubbi. Nell'auto sono stati trovati quasi 3 kg tra marijuana e hashish, prodotti per il confezionamento e anche biscotti e sigarette elettroniche con le relative fialette di ricarica, verosimilmente contenenti principi attivi di THC non commerciabili, che sono state portate in laboratorio per essere analizzate. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il ragazzo si sia procacciato la droga tramite canali non tradizionali, probabilmente acquistandola online. Il contesto è ora oggetto di indagine da parte della procura di Pordenone che ne ha disposto l'arresto per detenzione ai fini di spaccio. Continuiamo a rimanere su strada per parlare del triste trofeo aggiudicatosi dalla A4 che vince la medaglia d'oro come strada più pericolosa della provincia di Venezia nel 2021. Sono stati ben 66 gli incidenti registrati, tra cui 11 mortali. Un brutto primato segnato da 12 decessi e 91 feriti. Sono questi dati che emergono dallo studio realizzato dall'ACI sulla localizzazione degli incidenti stradali 2021. Un rapporto che analizza i 31.407 incidenti, 1.002 dei quali mortali, avvenuti su circa 53.000 km di strade della principale rete viaria del nostro paese. Tornando ai dati della provincia di Venezia, nella classifica delle strade più pericolose compaiono anche la strada statale 14 bis di Mestre, la strada statale 11 padana superiore, il raccordo di Marghera e la strada statale 309 Romea. I dati elaborati dal nostro centro studi nazionale, spiega il presidente di ACI Venezia, Giorgio Capuis, ci forniscono ogni anno un quadro preciso in cui viene fatto anche un raffronto con gli anni precedenti. Complessivamente nel 2021 si sono registrati 60 morti sulle strade della provincia di Venezia contro i 36 del 2020, anno in cui la circolazione stradale ha risentito dei blocchi causati dalle restrizioni Covid. Il totale è di 2.257 incidenti avvenuti nei 12 mesi del 2021. Il maggior numero di morti si è verificato nella fascia di età tra i 30 e i 54 anni e tra gli over 65. Sono le autovetture i veicoli più coinvolti, pari al 64,49%, seguiti dalle biciclette, 11,01% e dalle motociclette al 10,36%. Infine, nella tipologia di incidenti troviamo al primo posto lo scontro frontale e il fronto laterale, 38,39%, seguito dai tamponamenti al 31,30% per cause che fanno pensare anche all'uso del cellulare mentre si è al volante. Spostiamoci ora a Venezia, dove la Giunta Comunale ha deciso, su proposta degli assessori Francesca Zaccariotto, con delega ai lavori pubblici, Paola Mar, delega al patrimonio, e Simone Venturini, alla coesione sociale, distanziare 10 milioni di euro per interventi di riqualificazione energetica su 138 alloggi pubblici. Già pronti i progetti definitivi comprensivi della fattibilità tecnica ed economica fatti da insula. Stiamo parlando di 5 fabbricati per un totale di 138 appartamenti che grazie a un finanziamento di oltre 10,5 milioni di euro per i quali il Comune potrà usufruire del super bonus al 110%, arriveranno a un sensibile aumento della classe energetica consentendo importanti risparmi a chi li abita, spiega Zaccariotto, che sottolinea il progetto prevede di intervenire con capotti esterni, sostituendo i serramenti ed effettuando altre migliorie che consentano una migliore vivibilità. Con la prima delibera si interverrà in un complesso residenziale costituito da 72 alloggi, localizzato in via Malamocco a Lido di Venezia. Con la seconda si interverrà invece su un fabbricato che ospita 12 alloggi situato in via Postumia alla Gazzera e risalente agli anni 60. Infine, con la terza delibera si interverrà su altri tre fabbricati uniti in un complesso residenziale costituito da 54 alloggi, localizzato in via Carrer a Carpanedo e costruito nel 1980. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi. Nell'estrazione di martedì 15 novembre sono stati vinti una casa più 200 mila euro subito con la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. Il 5 è stato centrato a Meolo nel punto vendita Sisal Pillon Daniele di Via Pio Decimo. Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera senza alcuna restrizione purché si trovi sul territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovarla. E anche per questa edizione è tutto. Vi lascio nei prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti.